Parlavamo di tecnologia, tecnologia che è sicuramente, grandi scoperte scientifiche, tecnologiche eccetera, sono utili per l'umanità ma potrebbero essere la nostra tomba, perché sono capitate nelle mani sbagliate. È un po' come la bomba atomica. C'è una piccola differenza fra quella scoperta che abbiamo paragonato prima e la tecnologia, che continuano i benefici della scoperta di Einstein e la parentesi della bomba atomica che comunque è durata un bel periodo di tempo e ancora dura, perché se ci pensate bene ancora esistono le bombe atomiche purtroppo e sono un grandissimo rischio per l'umanità. L'umanità ha fatto anche delle cose buone con quelle scoperte, quindi con la teoria della relatività e tutto quello che ne ha conseguito. Sulla tecnologia che, ripeto, ancora per l'ennesima volta non è di proprietà, cioè non è di proprietà, magari molti brevetti se li sono accaparrati, i migliori ingegneri se li sono accaparrati. La quantità di denaro necessario per arrivare a un certo tipo di tecnologia avanzata è chiaro, ce l'hanno chi? I detentori del denaro. Quindi stanno monopolizzando la tecnologia a loro favore. Sono proprietari ormai perché hanno acquistato tutto, hanno raso al suolo tutto quello che gli uomini di buona volontà nel corso di secoli avevano scoperto. Ripeto ancora una volta, perché prima non abbiamo completato il discorso, io ho perso l'amicizia con una persona tempo fa perché citava questi grandi del presente e quindi Zuckerberg, Bill Gates, poi tutti quanti sempre, hai capito? Io dicevo no, guardate che questi non sanno scrivere neanche una riga di codice. Questi hanno solamente, sono stati, diciamo, i collettori. Cioè non sono programmatori loro? No, non sanno scrivere. E che hanno fatto? Sono collettori di interessi, sono persone che comunque hanno ovviamente una competenza nella materia, diciamo, più che una competenza, ne capiscono, hai capito? Sono, guarda... Sorprendente. Cioè, adesso non mi far andare oltre perché vorrei evitare... Andiamo oltre. Però non sono loro che hanno scoperto l'informatica. Cioè il fatto stesso che dentro un oggetto microscopico ci può essere tanta tecnologia non è dovuto alla loro scienza. No, non c'entrano nulla. Ci sono centinaia di anni di studi e più recenti la scoperta proprio dell'elettricità, poi dell'elettronica, l'informatica, i materiali, le cose. E loro non c'entrano assolutamente nulla. Hanno solamente acchiappato. Si sono ricomprati le scoperte degli altri. Hanno brevettato. Hanno messo il piede sopra. C'è proprio chi invece ha lavorato. Ma questo accade in tutto, anche nelle piccole aziende italiane soprattutto. Cioè, c'è quello che fa e quello che va là e chiappa e si prende tutti i meriti. Questo hanno fatto loro a livello ovviamente planetario. Si sono presi tutti i meriti, si stanno prendendo tutti i meriti che non hanno, che hanno altri. Tra l'altro, ripeto, tutte le macchine, tutti i server sicuri del mondo, anche i loro, la maggior parte di loro, girano su software gratuito che è Linux. Si chiama Linux. Il suo inventore, Torvald, non ha brevettato una ceppa. Ha donato all'umanità sta cosa. E grazie a Dio che è accaduto perché così possiamo permetterci di avere macchine. Però non è che tutti possano fare così. Tutti devono farlo. Beh, se pensi l'unica persona... Questo dipende dalle persone. Se tu pensi che l'unica persona che ha avuto dubbi su un farmaco che a quell'epoca si chiamava realmente vaccino, ok, sulla capacità della vaccinazione di far scomparire le epidemie, è stato Sebin, il maestro di Giulio Tarro. Tarro ce l'ha raccontato qui a Radio Radio più di una volta, abbiamo letto anche le interviste. Sebin ha detto, ma fosse che se ne stava andando da solo e quindi magari il mio vaccino era inutile. C'è una piccola differenza che lui non ci ha fatto i soldi, non ci si è arricchito, non ha brevettato nulla. Pensa. Hai capito? Ed è l'unico che ha avuto dei dubbi. Cioè, ma fosse che magari con le cure si migliorava la cosa e la malattia stava scomparendo per conto suo. Perché guardando i grafici dice, però stava andando via per conto suo. Il grafico non è cambiato. Dice, allora, oddio, c'ho un dubbio. C'ho un dubbio. Pensa che ancora l'Apollo l'hanno fatta, la stanno ancora, credo, facendo. Vabbè, questo poi ce lo spiegherà Vanni, che è più bravo di noi su questi numeri. Però, per dire che le scoperte scientifiche in tutti i campi non è che arrivano da quello che oggi vanta il fatto di possedere grandi aziende. No. E rendetevi conto che per arrivare dove siamo arrivati oggi, cioè per arrivare alla cosiddetta intelligenza artificiale, che sostanzialmente sono macchine che eseguono degli ordini, dopo vedremo fino a che punto si spingono. E anzi, poi noi stessi faremo un po' di provocazioni nelle prossime settimane per far vedere dove si possono spingere la pericolosità. Il problema è che questa roba qui adesso sta nelle mani di persone senza alcuno scrupolo, senza alcuno scrupolo, che stanno praticamente imponendoci scelte, tracciamenti, controlli, intercettazioni continue, delle quali noi neanche conosciamo nulla, perché il loro cavallo di troia, cioè gli assistenti vocali, fa lo sporco lavoro. Ne abbiamo già parlato, l'abbiamo spiegato, lo rispiegheremo. Ecco. Quindi noi dobbiamo interrogarci su questo. Proprio per evitare che si arrivi a un punto dove l'uomo non potrà più fare nulla, se non con una grandissima rivoluzione, una guerra colossale che farà sparire l'umanità. Allora, attenzione, la tecnologia oggi è nelle mani di persone squilibrate, punto, che non hanno alcuno scrupolo a far finire l'umanità, perché sono annoiate. Facciamocelo poi spiegare anche dai nostri, perché questo è un argomento importante. Noi vedremo delle cose, anche oggi parleremo anche del fatto che ci siamo a suoi fatti, addirittura allo scandalo, ma non allo scandalo dei fatti che abbiamo visto. Ma di come sono maturati, di come sono stati acquisiti, non ci meravigliamo più. Cioè, noi dovremmo meravigliarci del fatto che qualcuno ci spii in modo illegale, e invece ci meravigliamo di quello che è stato detto nella spiata. Ma questo accade in molte occasioni, che noi guardiamo... Cade nella magistratura, purtroppo, e non abbiamo mai segnalato abbastanza quanto fosse grave, lasciando che sia, let it be, in tutti questi anni. Quante sono uscite, quante frasi, parole, che non entravano assolutamente nell'inchiesta, venivano pubblicate.